Un convegno sull'olivicoltura a Loreta Prutino per tracciare le nuove strategie di sviluppo sulla scia dell'annata sciagurata del 2014 che ha messo quasi in ginocchio il comparto agricolo. Annunciata una novità, a breve ci sarà una DOP unica in Abruzzo con quattro sottozone, colline pescaresi, colline terramane, colline teatine e terre dell'Aquilano. Proprio qualche settimana fa ho convocato il tavolo della filiera dell'Orio in regione e abbiamo condiviso con i tanti attori di questo settore meraviglioso di unire le DOP abruzzesi e costituire un'unica DOP che possa dare un contributo importante per la promozione del nostro olio abruzzese. Inoltre, come dicevi ovviamente abbiamo parlato del PSR, una filiera importante sarà rappresentata dal settore olio ma condividere insieme queste strategie possono portare sicuramente a risultati positivi anche e soprattutto per il triangolo d'olio dell'olio ovviamente in questo territorio. È arrivato il momento di ripartire per dare un segnale forte a tutto il mondo del comparto olivicolo. Come ho detto prima, noi siamo mancanti su una cosa, su quella che è la redditività per i nostri produttori e oggi è il momento, visto che ci sono queste opportunità dall'Unione Europea, di unirsi per gestire meglio queste risorse. Non dobbiamo permettere più che queste risorse possano andare disperse. Oggi tutta la filiera si deve unire per avere con un obiettivo, fare un piano olivico regionale che punti a una maggiore competitività di tutto il settore olio.